Dopo un avvio incerto, un malfunzionamento iniziale, ma poi entrata al regime grazie al prezioso lavoro del personale medico ed infermieristico, la tenda pre-triage al frangipane di Ariano se ne va. La struttura verrà smantellata, la sua delicatissima funzione infermieristica volta ad identificare gli accessi si sposta direttamente nella camera calda del pronto soccorso e qui che è stato predisposto un apposito percorso dopo gli ultimi lavori di adeguamento dell'importante presidio sanitario. A darne notizia è stato il direttore generale dell'ASL Maria Morgante, un lavoro prezioso quello che ha svolto finora tutto il personale medico ed infermieristico del pronto soccorso diretto da Silvio D'Agostino a partire dai momenti più critici dell'emergenza e non è mancata al loro fianco la solidarietà da parte della popolazione e imprese attraverso gesti concreti e donazioni. Ha avuto una funzione delicatissima di fondamentale importanza afferma che ha operato all'interno del pronto soccorso il suo ricordo rimarrà legato ad un periodo critico in cui sono state spese tante energie sempre e solo per il bene di tutti. Di certo non dimenticheremo mai la grande generosità e solidarietà delle tantissime persone che in tutti i modi hanno cercato di sostenerci non solo con i tanti beni materiali ma anche con la preghiera. Un pezzo di noi che rimarrà nella memoria di tanti. Da oggi c'è un nuovo percorso nulla verrà lasciato al caso l'intera squadra è pronta ad una nuova sfida.